Che schifo Che merenda è? Ma che senso ha? Cioè semplicemente del pane in bianco Guardate, due fette di pane Senza niente Vieni qua pane E non scappare Ragazzi, Sofì vuole che mangiamo salutare Che non mangiamo troppi grassi Perché dice che fa male Quindi niente dolci Perché altrimenti gli tuccheri vanno male ai denti E quindi dobbiamo mangiare e fare merenda Soltanto così Con del pane in bianco A me non piace Però vorrei fare merenda E quindi non so che fare Dovrei mangiarlo Ma in questo momento Sofì non c'è E quindi potrebbe essere la mia occasione Per fare una piccola marachella Ecco come dire Un po' di marmellata Che sarà mai? Non farà di certo male Un assaggino di marmellata Giusto per dare un po' di sapore Capito? Proprio un pochino Alla fine è frutta Vabbè dai ma per un altro po' ecco Ecco adesso sì che ci siamo Ok Spalmiamola per bene Sì che bontà Vabbè dai Cosa sarà mai? Un po' di Cioccolata? Ma giusto un pochino per assaggiarla Niente di più Ecco Prenderà il nostro sandwich Ancora più slurposo Ora sì che magari Questo pane Ha un po' di sapore E possiamo mangiarlo A che ci siamo? Cosa farà un po' di caramelline? Proprio niente Dei cioccolatini Piccoli piccoli Ecco qui Ma giusto così Ne metto qualcuno Niente di più Ecco sì Perfetto Sto per mangiare La merenda Più buona Del mondo Buon appetito Luì Cosa stai facendo? Cosa gli avevo detto? Dobbiamo mangiare Salutare Niente zuccheri Niente grassi Perché fanno male Quello lì Non mi sembra mica Un cibo salutare C'è del pane Della parmellata Del cioccolato E dei cioccolatini Ovvia Sofì Ma non è come credi Quello che ho qui Tra le mie mani È del semplice pane No? Non c'è mica Niente dentro È del pane in bianco Ecco Quella poi Che si vede Qui Che si intravede Non è nient'altro Che frutta È semplicemente Della frutta Frullata Frutta frullata Esatto Certo certo Questi qua che sono caduti Dal panino Cosa sono? Questi Vedi che sono verdi Non conosci proprio Le verdure Queste qui verde È una piccola verdura Che si chiama Pisellino I pisellini verdi Ma mangiate i pisellini La pasta con i piselli? Non l'hai mai mangiata? Questi sono i pisellini Io mi sto mangiando Un panino Con la frutta frullata E i pisellini Più salutare di così Non c'è proprio niente Ah Questi verdi Sono pisellini Esatto Quindi se li assaggio Hanno sapore No no non l'assaggiare Non lo mangiare Strano A me non sembrano pisellini Sembrano cioccolattini Cosa? Cioccolattini? Oh no Ma è stranissimo Ma avranno fatto uno scherzo Vedi? Quelli del supermercato Hanno detto Questi sono dei pisellini Freschi raccolti Dalla campagna E invece erano cioccolattini Mi hanno preso in giro Flue Tu a me in giro Non mi ci prendi Guarda che ho visto Che qui c'è la scatola Dei cioccolattini Non ti hanno mica ingannato Tu sei andato Allo supermercato Hai comprato Di nascosto i cioccolattini Per metterli nel pane E adesso vuoi far credere a me Che io non conosco le verdure Io le verdure Le conosco benissimo Semmai sei tu Che non le conosci Che non le mangi mai Sai cosa ti ci vuole? Un bel corso di verdura Corso di verdura? Oh no no Non mi va di mangiare verdure Guarda che io le conosco tutte A cento per cento Ah si? Allora dimostramelo Stiamo per andare a fare una sfida Indovina la verdura challenge Ma prima Ciao a tutti Lui e lui E lei Sofì E insieme siamo in me contro te Questa qui mio caro Luì E la tua benda Adesso ti benderò E senza vedere Dovrai andare ad indovinare Che verdura ti darò in mano Guarda che c'era proprio Un gioco da ragazzi Io mi bendo E con cui Non vedo proprio nulla adesso I tuoi occhi sbaniscono E adesso davanti a te C'è una cloche Che vado subito ad alzare E voilà Di che verdura ci tratta Luì? Allora Inizio Cercando Cercando di capire Che cos'è toccandolo E È strano Puoi anche odorarlo O mangiarlo Se vuoi Ma cos'è? Una coppa? Un mazzo di fiori? Non proprio Mia cara carciofina Questo è un mazzo di fiori Per te Per dimostrarti il mio amore Sì 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 grazie Ma non sono fiori Devi indovinare di che si tratta Luì? Già E soprattutto ho capito Che non sono fiori Dall'odore E lo sai La regola numero uno Delle verdure E che sono un po' così Develo puzzare? No Che sono un pochino puzzolenti Però poi Però poi Hanno un buon gusto Quando poi le cucini Sono buone Quando poi le cucini Vanno ancora più puzzano Non è vero Non è vero Sono buonissime Ragazzi Bisattanto che dalla buzza Ho capito che cos'è Cos'è? È da questa testolina morbida Che sembra di toccare Dei capellini ricciolini Bisattanto che è un broccolo Bravo Indominato È un broccolo È schermo Adesso le mie mani Ma dai Ma non è vero Luì I broccoli sono buonissimi Sì ma tu che fai tanto La saputella Adesso tocca a te Voglio vedere Se sarai in grado Di indovinare la verdura Ecco qui La nostra carciofina Bendata Io sono pronta Ma la verdura c'è? Eh sì Solo che non c'entrava Dentro la cloche Oh oh Sì l'ho toccata Va bene Allora alzo la cloche Wow E qui c'è la verdura Oh Bene 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 Come dicevo a lui La verdura È Ha un odorino Un po' pungente Però poi Noi vi dovete lasciare ingannare Perché quando si cucina È molto buona Nei molti A crudo È meglio non odorarla E dall'odore non capisco neanche di che si tratta So solo Che sembra un ramuscello d'olivo Non è un ramuscello d'olivo te lo posso giurare Ma non è un ramuscello d'olivo Si tratta di più rami di Ulivo Erbetta Ma non è erbetta Non è erbetta È quella che mangiano le mucchie Erbetta Non è erbetta Ma perché erbetta che significa Deve dargli un nome preciso Che cosa hai fatto Mota cani Arriva l'erbetta Devi dare un nome preciso a questa verdura Lui ma tu hai pulito questo qui che ho in mano giusto Certo che no No Non ci potrebbero essere delle formiche Non ci sono formiche Dai dai cacciofina Dai cacciofina che tu sei pure una verdurina Non lo so lui non lo so Insalata Insalata Baiato Togli pure la benda È il sedano È il sedano Ragazzi non lo capivo Pensavo fosse insalata Sentivo tutte queste foglie Oh no Quindi per ora lui un punto Io zero E ho detto chi è in vantaggio Chi è che non conosce le verdure Ragazzi ora tocca a me Devo dimostrare a Sofì Che è solo un campione in questa sfida E che conosco tutte le verdure del mondo Ho preparato di nuovo la cloche E ti assicuro mio caro lui Che stavolta non indovinerai Posso aprire la mia cloche 3, 2, 1 Tadà Mi sento un cameriere ogni volta che faccio così E apro il mio piatto Che devo ammettere questa volta Non fa puzza Cioè non sento nessun odore Questo è inodore Per questo è più difficile Sei sicura che hai messo qualcosa qui dentro? Sicurissima Tra l'altro molto particolare Ma cos'è? Eh sì Non indovinerai mai Sì è una verdura A me sembra tipo un razzo Ma cos'è un missile? Cioè qui c'è tipo la punta Sì un po' ci somiglia C'è una fiamba No ti assicuro che è una verdura lui Ma è una penna Con questa si può scrivere in questo modo Ciao mi chiamo lui Ecco qua Sì effettivamente somiglia Tanto anche a una penna Non fa nessun odore E ragazzi io sinceramente Non lo riesco a capire Perché non mi ricordo Se esistono verdure a forma di siluro Ma cos'è? Sicuro sicuro Lui rifletti Rifletti bene Ma ma Si mangia? Si mangia Lui è una verdura Ti piace anche La mangi sempre Si può mangiare anche crudo? No Ok Eh Aspetta adesso Mi sono ricordato Ovviamente c'è una verdura A forma di siluro Ed è la zucchina Vediamo se è sdominato Sbagliato Sbagliato Ma come ho sbagliato? È la zucchina È la zucchina Però questa qui era gialla Ma lei la faceva Indominare il colore Con gli occhi chiusi Scusami Non vedi che questa è particolare Non è una zucchina verde È una zucchina gialla Si si ma caccia mia Io avevo gli occhi chiusi Con gli occhi chiusi Non puoi capire i colori Puoi capire la forma Va bene va bene Hai ragione Si è una zucchina E devo dire che è molto particolare Perché è gialla È bellissima E adesso tocca di nuovo a me Con la penna Sono proprio curioso di vedere Se il suo fei riuscirà a indovinare La prossima verdura Io ci sono Sono carica La cloche è piena? Si è pienissima Vuoi aprirla? Ale Ma non puoi bussarci Lui ma mi hai dato Una palla Una palla gommosa Questa è per giocare a basket Voi? No non è una palla Non pare così che esplode No ma esplode Non la fare rimbalzare Questo qui è un frutto Ed è un melone Non è un frutto È una verdura Sei sicuro? Si sicurissimo Ha una consistenza molto particolare Ragazzi Sembra quasi uno squishy Ma non devi preverlo Si scoppia Scoppia? Già Scoppia Una verdura che scoppia La patata Le patate che sono bollenti Allora Devo dire che la forma Assomiglia un po' a una patata Però è troppo grande Per essere una patata Sarebbe una patata gigante Allora È grande Come una testa Si Dopodiché è gommosa Si Liscissima Quello che sento è proprio la liscezza Sembra di accarezzare Una foca Sopra Ha un cappellino Eh si esatto Ha un cappellino Di erbetta Sofì concentrati Sofì devi vincere almeno questo round Devi indovinare di che si tratta Ho capito Ho capito cos'è Che cos'è Che cos'è Che cos'è Non mi ricordo come si chiama Ma come non ti ricordi come si chiama Ma è famosissima La mangi sempre E ti piace da morire La mangio sempre Poi fritta È buona Esatto Si mangia fritta È proprio buona E poi la mangio anche al forno Mamma mia ragazzi Dai 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 Inizia con la M Brava Ma non mi ricordo come si dice Aspettate aspettate Forse è un momodoro Un Momodoro Non è un momodoro Una marota No Una mannata Una melanzana Melanzana Bravissima Ragazzi non gli veniva in mente il nome Una melanzana Che è la cosa più liscia al mondo Ma l'avete mai toccato la melanzana cruda È troppo strana Sofino ricordava la parola melanzana Ma come faceva Cioè la melanzana tra tutte le verdure Devo ammettere che è la più buona A noi piace veramente tantissimo E ora è il mio ultimo turno Devo scoprire quale sarà la verdura Che mi nasconderà qui la carciofina Ti dico solo che è il mio momento Mi vendicherò Eh ma 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 che intenzioni hai Niente niente tranquillo Dai vendati vendati Ti metti la tua venda per occhi Ok E andiamo alla cloche Allora vado ad aprire E tada Cosa c'è qui dentro Ecco qui Perché già ridi scusa Non ho capito No no Non sto ridendo Non sto ridendo Ho detto ecco qui Ma non è che per caso qui C'hai messo un carciofo Con il rischio quindi di pungermi No no tranquillo Sicura? Sicurissima Io lo tocco con attenzione Perché sinceramente non mi vorrei pungere Come sapete i carciofi hanno le spine Tranquillo non è un carciofo Sì Devo ammettere che hai ragione Non è un carciofo Allora Cosa può essere? Non capisco Qui sopra c'è tipo l'erbetta Potrebbe essere tipo una patata Ma le patate hanno l'erbetta Non credo No effettivamente è strano come patata Perché sembra come le carote Cioè che hanno sopra tipo l'erbetta Però non è a punta È a palla Un pomodoro No lui non è un pomodoro Poi è anche molto duro Ma è durissimo Ma che cos'è? Mi sa che lo devo odorare Puzza di ascelle Puzza di piedi Puzza di ascelle di piedi Allora dai è facile Ragazzi mi sa tanto Che quella che tengo in mano Da dieci minuti Che mi passo da una mano all'altra E che mi avrà impuzzato totalmente È la cipolla Sì Esatto Sono tutte le mani che fanno Puzza di cipolla Esatto Mi dispiace tanto lui Però ha indovinato Vieni qua Che il carciofo No 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 Vai via vai via E che il carciofo No 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 A me